Oggi il Consiglio regionale ha respinto una risoluzione circa la sospensione del processo di fusione tra le Camere di Commercio di Termo e quella dell'Aquila. Tutto il Consiglio Camerale di Termo insieme al Comune, all'Università, alla provincia ci avevano chiesto di sospendere questo processo e noi abbiamo raccolto l'istanza di un'intera provincia, ma purtroppo i consiglieri di maggioranza teramani insieme ai loro colleghi regionali hanno detto di no e hanno detto di no a un'intera provincia, a un intero Consiglio Camerale che pubblicamente e con una delibera all'unanimità si erano espressi per sospendere il processo di fusione. Ci attendiamo una risposta chiara adesso da parte del Governo regionale e da parte del Governo nazionale affinché si rispetti la volontà di un'intera provincia rappresentata all'interno del Consiglio Camerale di Termo.